Come vedete quindi qui da questa formula, all'interno del Markdown Language si possono scrivere delle formule matematiche, questo è molto comodo per noi, perché possiamo commentare quindi anche le procedure in maniera adeguata. Per andare a disegnare la curva gaussiana, una delle librerie che mi può aiutare è NumPy, la libreria numerica di Python, e quindi la importo. E un'altra cosa che io, una questione interessante, una cosa interessante che ha il Python è che si possono fare assegnazioni multiple. Di solito si fa Mu uguale, una c'è 1 per esempio, Sigma uguale 2. In questo caso posso fare un'assegnazione multiple, cioè Mu è uguale a 0 e Sigma è uguale in questo caso 0.1. E qui posso anche commentare ulteriormente dicendo Min and Standard Deviation, così. Se voi andate ad interrogare una delle variabili vedete che Mu è uguale a 0 e Sigma sarà uguale a 0.1. Adesso uso una, quello che, beh, la prima cosa che faccio, voglio fare due cose. Una, andare a generare un insieme di numeri casuali distribuiti secondo la curva gaussiana. Per fare questo uso un comando di NumPy. Questo comando di NumPy si chiama random. e dopo random, dunque NP.random ci permette di accedere, in realtà è una classe, NP.random, che ci permette di accedere a vari sottoclassi. Una di queste è Normal, la distribuzione normale o gaussiana. Voglio una distribuzione normale gaussiana di media Mu e di deviazione standard Sigma. E voglio mille numeri generati secondo questa curva gaussiana. per costruirmi un insieme di dati sufficiente, mille numeri. Se guardate il len S, lunghezza di S, sono mille numeri. Non li rappresentiamo tutti e quanti, ma adesso li rappresenteremo. Quello che ci aspettiamo, ok, facciamo un controllo sui dati e in particolare tra la differenza fra Mu M-N-P, Mu è la media. Andiamo a calcolare la media dei nostri dati, del nostro vettore di dati, Mu. In particolare, N-P-Min, che è un comando, di che cosa? Di S. N-P-Min di S, se calcola la media di S, Beh, possiamo anche andarlo a vedere da soli, qui. Aggiungo una e vediamo che cos'è. Certamente, la media dovrebbe essere 0, 0,02. Noi siamo contenti se è minore di 0,01. In questo caso non succede. No, sì, in questo caso succede 0,01, perché qui è 0,002. Ok. Questo per verificare di non aver generato dei numeri random che sono in qualche modo mal distribuiti, perché può anche succedere. Adesso voglio andare a disegnare la distribuzione, in particolare la distribuzione, intanto l'istogramma dei miei dati. Quindi importo matplotlib, punto poi plot, esplt. E poi, sempre il solito trucchetto, questo comando si chiama magic, nel caso dei pandas. Il magic in questo caso, cioè non nel caso dei pandas, nel caso di Jupiter, sono dei comandi che sono propri dell'interfaccia di Jupiter. E in questo caso matplotlib inline. Ok. Adesso andiamo a disegnare l'istogramma. Beh, qua c'è un comando. Prima abbiamo visto gli istogrammi generati all'interno dei pandas, però in realtà quello che fanno i pandas non è altro che prendere i comandi di matplotlib. Qui i nostri dati si chiamano... C'è un comando in matplotlib che si chiama hist, che è quello che prendono i panda. È esattamente lo stesso comando. Quindi per fare, per disegnare, qui posso dire, fammi l'istogramma di S, che sappiamo essere un vettore di mille numeri, 30 bins, e normed, che dominerà errore anche qua, sul normed, uguale true. Ok. Questo potrebbe essere un primo comando. Vediamo cosa... Vediamo se uso density qua. Ok. Ok. Density true. Ok. Questo è il mio istogramma disegnato sui numeri che sono stati generati. Prima di agire, qui mi mostra anche in particolare quali sono i dati che sono contenuti in ciascuno degli elementi, i 30 elementi che ho generato. Io non sono molto soddisfatto di questa curva, non solo della curva gaussiana, ma anche del fatto che vorrei disegnarci sopra veramente una curva gaussiana. Allora, quello che faccio è complico un po' la cosa. Intanto, non vado solo a disegnare... Prima di disegnare l'istogramma, ne raccolgo alcuni elementi. Quando vado a disegnare l'istogramma, viene restituito un oggetto grafico, che è quello che viene disegnato. Questo oggetto grafico ha vari attributi che io posso raccogliere in questo modo, sempre con la regola delle associazioni, delle assegnazioni multiple. A me in realtà servono il numero di elementi e il numero di scatole che ho dentro. Quindi, come faccio a sapere che questi sono i primi due elementi dell'istogramma? Perché sono andato a leggermi il manuale dell'istogramma, anche quello online. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è su questa curva, quando io ho chiamato l'istogramma, che cosa è successo? In realtà io ho aperto un oggetto grafico, che rimane per il momento virtuale. In questo oggetto grafico c'è l'elemento istogramma con la sua spaziatura. Sopra ci voglio disegnare un'altra curva. Quello che faccio adesso, vado a disegnare una curva gaussiana. Per fare questo, posso aggiungere, prima di chiudere il mio comando, posso aggiungere un plot. L'abbiamo già visto il comando plot prima. Quando siamo andati a plottare, nello specifico, i dati relativi alle precipitazioni, sempre con i pandas. E' esattamente lo stesso comando. Plot prende un vettore di dati come ascissa, in questo caso i beans, che sarebbe il valore medio dei vari intervalli su cui ho calcolato l'istogramma di prima. E questo è beans. Devo mettere dentro qui però anche le ordinate. In questo caso, al posto delle ordinate, io metto direttamente la mia espressione della curva gaussiana, che qui scrivo direttamente dentro. 1 diviso parentesi tonda sigma per np.sqrt square root. Ok, ci siamo. 2 per np.pi, np.pi, che sono il pi greco. Sigma l'ho già messo fuori, va bene. Questa mi chiude la square root, questa mi chiude i beans, ok. E poi devo fare np.exp, ok, che è l'esponenziale. Di che cosa? Di meno, devo mettere beans meno mu elevato al quadrato. L'elevazione al quadrato si fa con la doppia in pandas, si fa con la doppio, non come ho fatto io, ma così, ok. Questa è l'elevazione al quadrato. Diviso. Aperta parentesi tonda. 2 sigma 2 per sigma al quadrato. La precedenza dei simboli qui è che prima viene il sigma, poi ne salto 2, ok. Ok. Line e width uguale a 2. La larghezza delle linee è uguale a 2. La linea la voglio in rosso. Ok. E adesso, e poi, plt.set, ci sono due modi per dare i comandi, c'è uno più dichiarativo e uno meno dichiarativo. Adesso uso quello meno dichiarativo, xlabel, xplt.ylabel, no, pdf di x. Ok. E infine, a questo punto però, devo anche dire che io voglio che il mio sistema sia mostrato. Quindi che cosa ho fatto? Beh, prima qui sopra disegno l'istogramma, esattamente come compariva sopra. Poi qui sotto, invece, disegno una curva gaussiana, che spero di avere inserito nel modo corretto. Adesso andiamo ad eseguire e vediamo. È perfetto. Quindi ho disegnato una curva gaussiana nel modo giusto. Ci sono altri modi, altri nel notebook che voi vedete. ci sono altri modi per disegnare queste curve. e l'invito che voi adesso dovreste provare, per esempio, a generare non una curva gaussiana, se vogliamo generare non una curva gaussiana, ma un altro tipo di curva. Per esempio, proviamo a generare una curva di Gumbel. Ci è andata bene. Ci è andata bene nel senso che la curva di Gumbel c'è. E quindi possiamo semplicemente prendere il nostro... i nostri comandi di prima, ricopiarli dentro e vedere il nostro fitting. In realtà questi dati che noi abbiamo ottenuto qui sono, come vedete, vengono fittati relativamente bene anche da una curva di Gumbel, però evidentemente la curva che io ho disegnato sopra è una curva gaussiana. nel caso perché ho usato questo comando qua, dovrei invece inserire qui l'espressione della curva di Gumbel però per fare questo, cioè quando se io vado ad inserire l'espressione di una curva di Gumbel qui, che cosa sto facendo? Sto facendo esattamente l'operazione che dovremmo andare a fare, ovvero quella di assegnare ai valori dei parametri assegnare i valori dei parametri della nostra curva di Gumbel. Cioè io potrei scrivere qui la nostra curva di Gumbel, come vi ricordate, la distribuzione di probabilità è E alla meno E alla meno H meno A diviso B. La sua densità quindi si ottiene derivando rispetto ad H e quindi sarà davanti avremo H diviso B come 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 derivare come densità. Quindi l'istogramma sarà distribuito come una certa curva di Gumbel. La curva di Gumbel in particolare qui che cosa aveva? Beh, abbiamo usato i dati della curva gaussiana per cui il nostro mu in realtà non era era A e il nostro sigma era B. Per cui in qualche modo potremmo usare questi dati potremmo usare questi dati per nel modo corretto perché io ho lasciato i nomi invariati ma il significato all'interno di quando ho cambiato il nome qui è cambiato. Per saperne di più su questa cosa quello che noi dovremmo sapere è andare a vedere che cosa che cosa si fa e come funziona in questa come funziona tutto questo. Allora andiamo a chiamarci una nuova finestra qui quello che si fa è np.gumbel e per esempio qui dice come funziona come vedete vedete la sintassi np.gumbel valore scala size ritorna ritorna un vettore secondo la distribuzione di gumbel valore e scala nel nostro caso sono la nostra a e la nostra b che io prima avevo lasciato come come indipendenti un esercizio che vi lascio fare che vi lascio fare per casa è quello appunto di usare esattamente una volta accertato il fatto che i nostri due elementi sono eccolo qua il nostro elemento condivido che i nostri due valori di mu e sigma non sono altro che a e b rifare la stessa cosa con che avete fatto qui con la curva gaussiana perché la linea rossa è una curva gaussiana che è troncata a meno 0,2 in verità fare la stessa cosa sostituendo al valore l'espressione che qui c'era per la per la curva gaussiana l'espressione della curva di gumbel quello che avrete fatto dopo questo questa applicazione è esattamente l'applicazione del metodo dei momenti che andiamo poi a vedere più tardi e volendo generare una 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 curva di gumbel con mu e sigma diversi per esempio possiamo mettere mu se mettiamo 30 sigma 8 vediamo che in questo caso dobbiamo che va bene a uguale 30 b uguale a 8 così siamo qui abbiamo confuso sigma con b e questo l'abbiamo confuso con a e b prendiamo cosa succede ho sbagliato b is not defined allora facciamo così a uguale a 30 b uguale a 8 adesso che abbiamo messo i numeri un po' a posto quello che vedete è una cosa interessante è che l'istogramma comunque ha tutti i valori positivi e in qualche modo la gaussiana non è una brutta interpolazione della nostra curva abbiamo usato il metodo dei momenti però un po' arbitrariamente se vogliamo per farlo meglio dobbiamo andare realmente a vedere che cosa che cosa dobbiamo andare realmente a risolvere il nostro sistema che ci correla i momenti ai valori della curva gaussiana se voi cambiate no se voi cambiate il ok non ho ancora scaricato i dati opportuni se voi andate a vedere in realtà i notebook relativi ci sono già sono già presenti quello che invece volevo sollecitarvi prima in questi 15 minuti che mi mancano per finire le lezioni è un'altra cosa io vi ho dato le piogge di paperopoli dove sono le piogge i dati di pioggia che invece servono a voi i dati di pioggia che servono a voi sono sul sito di meteo trentino quindi ognuno dei vostri gruppi dovrà scegliere uno dei siti di analisi potete scegliere quelli di meteo trentino adesso io vi dico dove sono quelli di meteo trentino però se qualcuno di voi volesse lavorare su dati del veneto o su dati della provincia di bolzano o su altri dati possiamo vedere insieme dove questi dati si trovano su meteo trentino in generale comunque i dati sono forniti dalle arpa regionali se voi cercate le arpa cioè agenzie regionali per la protezione dell'ambiente questo è dopo lo smantellamento del servizio del servizio nazionale le arpa hanno preso questo compito di produrre i dati idrometeorologici ogni arpa ha la sua sfortunatamente ha modalità diverse con cui fornisce i dati quelli del trentino sono appunto è un'agenzia provinciale si chiama meteo trentino se voi vi collegate al sito di meteo trentino vi compare un sito di questo tipo in cui nella pagina di entrata avete solo gli ultimi dati meteo che si riferiscono agli ultimi tre giorni voi invece dovete andare ad assicurare dovete andare a prendere i dati storici quindi dovete andare su dati e osservazioni che vedete rappresentato qui poi sotto dati e osservazioni vedete dati recenti eccetera nivometri altre cose voi dovete andare su dati storici c'è anche una guida per l'accesso ai dati storici qua che vedete rappresentata come Aistra e questa guida ai dati storici vi conviene darci una breve letta prima di che poi vi risparmi un sacco di lavoro su come accedere alle stazioni in realtà potete accedere ai dati sia attraverso l'elenco delle stazioni sia attraverso la mappa delle stazioni cliccando sulla mappa questa è la guida di Aistra che vi consiglio di scaricare questa sui dati storici queste sono le stazioni sui quali ci sono dati storici cliccando su ciascuno di questi punti voi venite mandati in una delle stazioni per esempio in questa casa in questo caso io ho sottolineato quella che ha a che fare con il monte Grostè che è il rifugio Graff era a 2300 metri sulle dolomiti di Verenta faccio notare qui metri senza punto S.L.M. quando fate le relazioni metri è un simbolo non va puntato non è un per esempio prendiamo questi dati del monte Grostè e abbiamo la pioggia in millimetri che è quello che a noi ci serve e vedete che qui ci sono i dati dal 1991 al 2018 sono quindi 9 più 18 adesso saranno fino al 2019 perché questa è una slide che ha qualche anno quindi avete 19 più 9 27 anni questo è un numero sufficiente di dati però diciamo che l'ideale sarebbe avere almeno 25 dati meglio se abbiamo più di 30 dati noi vogliamo la pioggia in millimetro e tutti i dati e dobbiamo generare l'output e quindi ci scarichiamo i dati e poi al posto dei i dati dovrebbero essere forniti sia in formato CSV ma più probabilmente in formato Excel dopodiché Concetta vi ha insegnato come leggere i dati in formato Excel e voi quindi avete a disposizione al posto dei dati della pluviumetria di Paperopoli che saranno quelli che io userò per fare i calcoli voi avrete le vostre stazioni e sarà bene che ognuno dei gruppi partecipanti ci comunichi celermente la stazione che ha scelto first in first out cioè che prima arriva si prende la stazione e una volta comunicato poi lavorerà sui dati di quella stazione la relazione finale di questa prima parte di esercitazione sarà calcolare le curve di possibilità pluviumetrica sui dati della stazione della vostra stazione e poi presentarla in maniera decente attraverso un notebook nel pomeriggio vi carico anche alcuni notebook di esempi fatti da vostri colleghi dello scorso anno e che io giudicato particolarmente fatte bene e quindi anche voi potete in qualche modo usare come template come riferimento i dati di questi colleghi se non avete domande io per oggi non ho altro da dirvi se non appunto che ci vediamo martedì prossimo martedì prossimo la lezione sarà molto più intensa per martedì prossimo vi prego fate anche questi due sforzo questo sforzo primo di andare nel secondo notebook che vi ho presentato di andare a sostituire all'espressione della gaussiana l'espressione della densità di probabilità di una di una gumbel e provare a rifare il grafico per quanto riguarda il primo notebook invece dovreste andare a cercare di capire come variare le dimensioni dei le dimensioni dei grafici in maniera tale che questi diventino leggibili ci sono delle domande? vi ricordo sempre che avete anche clicker come che io lascio aperto come modalità per rivolgermi delle domande in forma anonima ho una domanda sì è una domanda di una di una di una di voi che mi dice che deve fare solo l'orale solo della parte statistica precipitazione al suolo ed estreme mi rimandi le rispondo via email a questa studentessa rispondo via email o dopo più tardi ci sono delle domande di interesse più generale se non ci sono domande di più generali e allora possiamo chiudere e buon pranzo a tutti grazie grazie a tutti e tanto grazie a rivederci grazie a rivederci prego grazie a voi professore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti